Allora, Gallo, lei voleva aggiungere qualche cosa? Sì, la Corte ammette la produzione naturalmente di tali documenti. Posso? Come no? Presidente, su questo pretorio io già ho reso interrogatorio. Ho parlato della mia vita in generale. Era riservato per qualche punto. E adesso vorrei parlare un po' della mia situazione processuale. Intendo iniziare con Vitale, con Leonardo Vitale. Io per le accuse di Leonardo Vitale allora sono stato giudicato e assolto con sentenza definitiva. Ma in tutti i miei procedimenti si parla sempre del Vitale. Anche in questa ordinanza del rinvio a giudizio. Ora, Vitale, io non ho mai reso interrogatorio del Vitale perché ero latitante. A questo punto io le devo dire che Vitale era, la mamma del Vitale era la sorella, e la sorella di uno zio mio perché il fratello della mamma del Vitale si è sposato con una mia zia, una tale Filippone Cristina. Allora, il Vitale io lo conoscevo fin da ragazzo, proprio l'ho visto crescere. Il Vitale, fin da ragazzo, io lo ho sempre, sia lui sapeva la mia, lui conosceva tutte le mie attività fin da ragazzo, così conoscevo pure anche la sua vita. E quando io sono uscito, sono stato liberato dal processo di Catanzaro nel 68, il Vitale lo rivide, lo rivide, e lo rivide, cioè, l'ho visto che stava molto male. era fessato, che doveva morire giovane, cioè, aveva tante di quelle fessazioni che io, incontrandomi con questo zio mio, comune zio, che è lui zio del fratello della mamma, e zio mio per quanto riguarda, cioè, per una mia parente lontana. E proprio dicevo... La madre del Vitale era sorella, era o è, eh, sorella. di questo fratello della mamma del Vitale. Mi pare che dovrebbe essere era, no? Eh? È ancora viva la madre del Vitale. La mamma del Vitale è viva, sì. Quindi è sorella di un suo zio. Di questo zio ho sposato, perché si è sposato una zia mia. Sì, ha acquisito. Se le pone questina. Sì, ha acquisito, diciamo. Allora, anche questo zio mio mi informava, mi ha detto lo stato di salute, perché vedendo le stranezze di questo ragazzo, mi informava che il suo ragazzo era sofferente, c'è stato, tanto è vero, si è presente, che prima delle sue rivelazioni, lui è stato tre volte in manicomio, sia, ho giocato in una clinica d'anni, è ricoverato al manicomio via Pendemonte, poi è stato una volta, mio caro, ricordo a Xassari. Insomma, questo ragazzo, quando ha fatto quelle rivelazioni, ma non era in condizione né mentale, né poteva fare un discorso logico, cioè, le rivelazioni di relazione, ma è stato lui a dirle, ma in ogni modo, lui conosceva tutte le mie attività. Quando parla di rappresentante di Porta Nuova, io non ho capito ancora fino ad oggi una sola cosa che si può spiegare. Rappresentante, io l'ho fatto, è dei rappresentanti del Sud, come lei l'altra volta ho detto alla Corte, da Giulio Terese. Questa ditta aveva la rappresentanza dell'Aneficio Rossi, cioè, molto conosciuta a Palermo. E lei l'ha detto. Io sono di Porta Nuova. Insomma, questi discorsi, ancora non ho, fino adesso, ancora, io penso che questa parola rappresentante viene, intanto è venuta dal Vitale, e continua, perché poi, a distanza di tempo, ne riparla Buscetta. Buscetta, per le sue rivelazioni, in ordine di tempo, mi accusa Buscetta. Buscetta per le sue, so. Io, sempre, l'ho detto l'altra volta, solo ha fatto il mio nome Buscetta, solo per aggrapparsi e avere degli riscontri, perché solo in questa maniera lui si è potuto aggrappare a me. Ha parlato di rappresentante di Porta Nuova, ha parlato anche, mi ha messo in una condizione ancora, cioè, superiore. Cioè, mi ha introdotto in una commissione di mafia. Ancora, mi ha ingrandito. Ora, io, signor Presidente, signor Alcorte, ma come devo fare per io, insomma, come dire, difendermi di queste accuse? Che cosa devo dimostrare alla Corte, signor Presidente? Io vorrei sapere che cosa devo, perché la mia parola contro quella sua. Naturalmente, fino adesso è stato creduto lui, perché, vede, basta una parola, l'altra volta, e mi arriva un mandato di cattura. Se ho tutte le parole che dice Buscetta, è Cassazione, cioè, infatti, arrivano le mandato di cattura. L'ultima accusa che mi ha fatto, bene, puntualmente mi arriva un mandato di cattura. Allora, cosa devo dimostrare alla Corte per giudicare falso Buscetta? Che come mi devo difendere, signor Presidente? Mi può suggerire così? Cosa devo dimostrare? La Corte non può suggerire linee difendentive. Lei ha avvocati abbastanza consumati nella professione, e quindi i suoi avvocati le daranno consigli. Allora, la cosa che posso dimostrare io è di dichiararlo bugiato, con fatti. Sì. Quali sono i fatti? Nelle sue dichiarazioni che lui ha, tante dichiarazioni che lui ha fatto, io ricordo benissimo qui, io non voglio discutere le altre dichiarazioni, perché sarà a compito dei miei avvocati, non voglio entrarci in merito. Ma l'ultima dichiarazione che lui ha fatto ha detto che nel 1960 andò via da Palermo perché per questione familiare andò via di Palermo. Ora, fino adesso io sono meravigliato come nel giudice istruttore, ma secondo me questa dichiarazione l'ha fatto qua, perché dunque il giudice istruttore non glielo poteva chiedere. Noi gli chiedono, nessuno ha chiesto a Buscetta quali erano questi istruttori familiari. Io, per desgrazia sua, li so. Li so perché? Perché essendo amico del fratello, come ho detto l'altra volta, il fratello mi raccontava tutto di questo Buscetta Tommaso, tutto quello che gli faceva, tutta la sua storia la so perché riferitemi dal fratello. I suoi istruttori familiari quali sono? Non perché voglio parlare sempre di donne, perché la moralità di Buscetta ormai è risaputa. Questa non voglio riparlarne perché già magari la corte si stanca di sentirne parlare. Ma la sua, allora, i suoi istruttori familiari quali sono stati? Perché lui nel 59, 60, conviveva con una donna, questa vera Girotti. Ora, questa vera Girotti, quando io gli dico, quando abbiamo fatto il confronto, se penso e ricordo il suo Presidente, io insistevo di questa testa. Perché? Perché lei può far sapere alla corte se Buscetta in quel periodo viveva a Palermo, se viveva a Milano, perché in un tanto interrogatorio dice che un periodo viveva a Milano, a Palermo, poi in un altro interrogatorio qui ha detto che è andato via da Palermo nel 60, non è più tornato. Allora, se presente, io insisto sempre per questa testa che venga a testimoniare, perché lei così vedrà le bugie che ha detto Buscetta. Perché può darsi che anche non viveva né a Palermo né a Milano, poteva anche vivere all'estero in quel periodo. Io le posso anticipare una cosa, perché poi... Sostante la bugia che avrebbe detto Buscetta quale sarebbe stata? Ma, se presente, lui parla di periodi del 60 a Palermo... No, no, dicevo, ma i dissidi familiari, lei sta precisando che i dissidi erano dovuti al fatto che aveva una relazione con questa donna. Ma c'erano i dissidi familiari? Ma, se c'erano per i fatti suoi, però lui, io dico questo, se presente, siccome lui ha dichiarato qui che c'è stato in quel periodo del 60-63, viveva, cioè a Palermo ha vissuto alcune cose, episodi, anzi ha raccontato degli episodi, facendo anche il mio nome in quel periodo. Poi qui, cosa ha detto? Che nel 60 è andato via da Palermo e non è più tornato. Allora, invece era... Ora, io la verità, se poi, se loro la vogliono sapere, se no, signor De La Cosa, signor Presidente, signor De La Cosa, vedendo, sentendo, ascoltando questa testa, può stabilire, se gli ha detto la verità, se abitava a Palermo, se abitava a Milano o abitava altrove. Quando lui dice che non è venuto da 63 a Palermo, non è più tornato, fino a nel 72, che poi è tornato e stradato, io le posso anticipare questo, signor Presidente, sempre dettomi dal fratello, che lui è stato nel 65, aspetta, scusi, nel 66, nel 67, nel 69, nel 71, a Palermo. Una volta di queste, è stata pure con questa donna, con questa girotta. Ecco perché, dico, è importante questa testa. Ma è venuto pure a... in Sicilia, è venuto in Sicilia. È venuto a stare per... Io ricordo questo, che mentre ero in cella con il fratello Vincenzo Buscetta, mi disse, lo sai chi c'è a Palermo? C'è Buscetto, Tommaso, con disgraziato, ed ha detto anche una parola grave, per dire, c'è anche quella donna. Poi nel 69, io stavo in macelleria, e il fratello sempre veniva da me a trovarmi, o perché comprava la carne, e mi diceva, guarda sei stato pure Masino, io te lo saluto, ma se lo salutai, così, ecco perché dico, è importante questa testa, per sapere la verità, finché Buscetta ha mentito, lei insiste nell'agitazione, ancora la Corte... No, io dico, questa è una, poi ci sono altre testate. Questa è fondamentale per me, e penso anche per la Corte, sapere fino a che punto Buscetta ha mentito o no. Un'altra cosa, lui dice, parla di un giuramento che io ho fatto, mi ha fatto fare, signor Presidente, cioè parla del 54, perché lui ha detto subito uscito dal carcere, quando mi è successo la disgrazia di quello che ha ucciso mio padre, io mi sono prestato a fargli fare un giuramento, a fare parte di questa organizzazione. Signor Presidente, era il periodo, guarda, era il periodo che io lavoravo nel magazzino Giardini, io non so se qualcuno della Corte conosce questo magazzino, allora anzi, perché parliamo del periodo del 54, in quel magazzino, signor Presidente, si entrava alle 8 di mattina, il pranzo non esisteva, cioè si usciva alle 1 e mezza, alle 2 e un quarto, si rientrava alle 3 e un quarto, si usciva alle 8, tanto era il lavoro, tanto era il lavoro, che non si poteva fare altrimenti, e non solo, io in quel periodo facevo attività sportive, la sera alle 9 me ne andavo in palestra da Pandolfine, a fare gennastica, a fare lo sport che praticavo, la mattina in primavera me ne andavo al circolo canottieri di Palermo, e andavo a fare canottieri, insomma io non avevo tempo, avevo tempo di lavoro e di sport, perciò sto fatto di fare parte in una, e parliamo del 54, cioè 55, fino a 58 io ho lavorato ai giardini, sempre con questo lavoro, con questa attività e questo lavoro, poi faccio il rappresentante dei tessuti, e poi cosa faccio? Io metto un bar, cioè compro un bar in via Sant'Agostino numero 4, questo bar, questa attività di questo bar, non mi consentiva di essere neanche libero, potevo stare libero solo l'ora del pranzo, perché è un bar che si apriva alle 8 di mattina, si chiudeva alle 8 e mezza di sera, l'orario dei negozi, io qui credo che cercherò di digitare anche questo testo, questo cameriere, che lavorava con me, allora, la mattina fino alla sera, sempre al bar, io andavo a collezione un'ora, quando c'erano i negozi chiusi, e andavo a casa a mangiare, e tornavo, e tutta questa, poi avevo anche, ero socio di questa pompa di benzina, non ci stavo io, perché? Perché non potevo avere tempo, per accudire a questa gestione di pompa di benzina, ci andavo la domenica, quando io ero libero, insomma, la mia attività lavorativa, non mi permetteva di stare un giorno libero, Bocchetta non parla niente, questa mia attività non ne parla, perché purtroppo non gli conviene parlarne, ma per fortuna ho dei testi che posso testimoniare, c'ho la licenza a nome mio di questo bar, c'ho questo socio della pompa di benzina che ancora è viva, la pompa di benzina ancora esiste, poi, quando usci dal negozi, dal carcere, dal 63 al 68, che cosa ho avuto? Ho avuto io 5 anni di sorveglianza speciale, dunque, il periodo del 63 al 68, carcerato, 68 al 73, sorveglianza speciale, a parte che un anno andavo a abitare a Roma per gli interventi di mio figlio, e poi l'attitante, io non so qual era il periodo che io potevo stare libero o fare altre attività, attività, ho sempre lavorato, ho dimostrato, ma lei ha avuto inflitta la misura di sorveglianza speciale, come mai allora? Guardi, nel primo grado, nel primo grado, mi hanno condannato 6 anni e 6 mesi, cioè, mi avevano fatto, appena uscito a libertà provvisore del processo di Catanzaro, mi hanno fatto la proposta per la sorveglianza, per il confine, per il soggiorno pregato, se non che in attesa della sentenza me l'hanno sospeso, quando in primo grado mi hanno condannato 6 anni e più mesi, mi hanno dato subito, anziché, dato che io avevo un'attività lavorativa, mi hanno dato la sorveglianza speciale, poi andai l'attitante nel 1973, perciò non ho potuto, quando poi mi hanno assolto, mi pare che l'appello l'hanno fatto, non mi ricordo il suo particolare, quest'anno non mi ricordo quando hanno fatto l'appello, dopo l'appello avrei potuto fare il ricorso per liberare, ma poi ero l'attitante e non l'ho fatto più, sono rimasto così, perché il processo doveva essere definitivo, in Cassazione mi pare che è stato definitivo nel 1975, insomma io ero l'attitante e non ho potuto fare nessun ricorso, ma sono stato io sorvegliato, ma sorvegliato signor Presidente, uscivo la mattina, 7 e mezza, andavo al negozio a 100 metri di distanza, perché abitavo in via Gero Maninuzzi, e la macelleria era in via Palmerino, 200 metri, quello che è 200, 250, 500 metri, io non so cosa ne so distinguere, ma uscivo la mattina di casa e andavo in macelleria, al macello non ci andavo neanch'io, c'era un mio cugino che si interessava, perché io non ero del mestiere, si interessava lui a comprarmi la carne, questa è la mia attività lavorativa. Presidente, di altre cose io non voglio parlarne di Buccetta, perché ne parlerà, però voglio chiarire qualche altra cosa, perché purtroppo l'altra volta io volevo chiarire tante cose, io, a parte che, dopo otto ore di attesa, in quelle celle, dopo otto ore fare un confronto con questo signore, purtroppo che non è normale quell'individuo, e ho dimenticato chiederci qualche cosa, ma adesso voglio chiarire, lui ha parlato nel suo interrogatorio, a parte la telefonata, adesso ne parliamo della telefonata, di un dentista, che a me non mi hanno fatto nessun, nel giudice istruttore me l'ha chiesto, nessuno me l'ha chiesto, lui parla di un dentista, del Brasile, non so, permette che io lo... Sì, sì, guarda. Che cosa è? Mi scusi, si è un patente che... Sì, sì, guarda. A pagina 81, dell'interrogatore di Buscetta, parla di un dentista, faccio presente, ancora di aver appreso da Antonino Salamone, che egli stesso, o sua moglie, si rivolgeva per le sue cure necessarie ad un dentista rinomato, a San Paolo, non so se italiano o brasiliano, il quale è cugino di un certo Ernesto Romano, compare quest'ultimo di Pippo Calo. Quindi Salamone mi invitava a stare attento, facendomi presente, che attraverso questo canale, era possibile, cioè, era una delle possibilità per Pippo Calo giungere a me. Tale discorso nacque quando io, avendo bisogno di un dentista, chiese a Salamone se poteva indirizzarmi per il suo dentista. Presidente, io non so cosa ha risposto Salamone di questo, ma, purtroppo, io questa cosa, se lo vogliono chiedere a Salamone, non lo so se ne sa parlare di questo dentista, io so solo una cosa, che Balducci, quando io lo lasciai a Roma e gli disse a Balducci di dare a stare, di avere un'attenzione per questo mio amico, Balducci, quando mi, lui se ne andò di casa mia e non mi rimproverò, mi disse, ma perché non mi ha detto che era buscetta? mi ha detto pure questo, mi ha detto, a Roma, ha avuto bisogno di un dentista, io indicai, indicai un dentista a Roma per curarsi i denti, poi dice, mi ho dato pure un indirizzo del Brasile, di un dentista che io conosco, amico mio, dunque, questo fatto di dentista, è Balducci che glielo dice, ma guarda un po', perché poi a un certo punto, perché, io non lo so se Salamone ne sa parlare di questa cosa, però io ricordo le parole di Balducci e io le sto ripetendo qua, è Balducci che indica un dentista a Roma e un dentista a Brasile se avesse avuto bisogno, ecco, voglio chiarire questo percorso. Balducci era stato in Brasile e Balducci? Non lo so se è stato in Brasile, se è stato in Brasile, non lo so, non lo so, lui insomma, viaggiava, non è che mi diceva, guarda io sono stato in Brasile, poi io nei processi che io ho letto, vado leggendo, ho sentito che è stato in Brasile, è stato in Svizzera, ma a me non me lo diceva perché noi, cioè, il rapporto di affare con lui da principio, nel 73, 75, così, qualche rapporto di affare nel senso che mi faceva guadagnare nelle senzalerie che lui aveva, faceva, allora, qualche cosa mi diceva, ma non mi diceva tutto del suo lavoro. siccome lei dice, gli ho dato il nome di suo dentista, lei lo ha detto, ma tu come lo conoscevi questo dentista, a meno che lei non... io so pure che questo dentista è parente di un certo Ernesto che io conosco, questo Ernesto di Dallè, cioè, sì, 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 questo non ho saputo pure che è parente, ma io dico, guarda, di Bocchetta che come va a... Ma lei non ha chiesto al Balducci se era stato in Brasile, le risultava che il Brasile... No, no, allora, fino allora non credo, sa, fino allora non lo so se... E poi credo che non ci poteva andare. Poi non lo so, guarda, non lo so se è presente, direi una pochia. Ma veniva in Italia questo dentista brasiliano? Io ho saputo poi che nel 79, no, nel 79 era stato in Italia questo dentista. Il Balducci in quale circostanza fu ucciso? So che è stato ucciso nell'81, signor Presidente. A Roma? A Roma, nell'ottobre 81, così. Le circostanze non le sa? Lei che lo conosceva? Non le so. Non le so, non le so. No, ma continui. Ora, a parte, signor Presidente, che lui quando dice per giungere a me, cioè cosa vuol significare? Che io avevo intenzione di uccidere Bocchetta? Ma Bocchetta si contraddice nelle sue dichiarazioni. Perché se noi vogliamo credere un po' a Bocchetta, signor Presidente, allora nella telefonata che lui fa, che cioè, quando parla di quella famosa telefonata che lui telefona a me dicendo che devi avere notizie del cognato e io lo invito a venire in Italia, a prestarsi in Italia e lui accetta solo che mi dice che basta che tu mi mandi i soldi che io vengo, allora che motivo avevo? Quando io lo volevo a Bocchetta bastava solo che gli mandassi i soldi per averlo a mia disposizione. Si contraddice lui stesso quando parla di questo fatto. Ma non è vero, non è la telefonata, né questo dentista, non è vero niente di quello che lui ha detto. Come per esempio, non è vero niente, signor Presidente. Mi scusa che c'è un po' la voce rauca perché non sono raffreddato. Quando parla un altro episodio quando mi allontanai da Torino il 3-4 giugno questo è sempre Bocchetta che parla a pagina 39 del suo interrogatore mi recai a Palermo lì fu cercato per conto di Pippo Caloro da Vittorio Maiozzo il suo vittorio Maiozzo poi è un mistero come io con noi poi per questo che ne parliamo signor Presidente. A pagina 325 fa un'altra dichiarazione. Quando nella decisione di andare via influì il fatto che avevo deciso di tornare in Brasile e di abbandonare tutti e tutti in Italia. Quando tornai a Palermo decisi che era opportuno parlare da un Pippo Caloro perché non volevo tenere dentro di me il disappunto per il modo con cui mi aveva trattato durante la mia detenzione. cioè allora continuo pertanto pertanto tramite Vittorio Maiozzo adesso è lui che cerca Vittorio Maiozzo mi fece accompagnare la persona che adesso non ricordo perché quando le volevo ricordare le cose le ricordo quando le volevo ricordare fosse mio figlio Antonio a Roma dove rimase ospite per circa una settimana naturalmente a casa mia. Ora questa è una direzione che lui fa prima dice che io lo cercai intanto io dovevo sapere che il 3-4 giugno lui si allontanava da Torino che era insieme a Libertà poi dovevo sapere che lui si regava a Palermo cioè a Palermo dove lo potevano facilmente arrestare tutt'appiù io potevo immaginare magari che lui se ne andasse in Brasile o all'estero ma non a Palermo dove era più facile poterlo arrestare. ma la verità è questa signor Presidente non è vero né l'una versione né l'altra lui venne a Roma da me mi cercò tramite il fratello perché è il fratello che gli fa sapere dove io abito io qui glielo ho contestato ma perché volevo che lui insistesse e non ha potuto insistere perché la verità è questa tramite il fratello sempre per mezzo di un parente mio ha saputo dove io abitavo ma non era perché lui né perché io l'occhio cercai né perché lui mi cercava era perché doveva ospitare adesso poi lo mio ho capito perché e ho capito perché non gli è piaciuta la prima casa che io gli ho trovato cioè perché la casa era piccola perché lui aspettava la moglie e il suocero che veniva dal Brasile e allora venne a Roma a ricevere il suocero e la moglie allora lui si è servito di me per avere l'appartamento non mi dice niente che lui aveva bisogno di questo appartamento perché non mi dice niente perché non gli avevi dato allora siccome lui mi dice ho bisogno di abitare due o tre sere qui a Roma e allora io medesimandomi nella sua situazione perché una cosa sola mi rimproverò il suo presidente e mi rimproverò sempre avevi dato ospitalità su questo buscetto perché veramente non se lo meritavo per tante ragioni non se lo meritavo allora cosa ha fatto lì non gli è piaciuto tanto mi meravigliavo perché dicevo ma una casa due vani ma come che non gli piace non può usciva dal carcere erano pomodori due vani io per la gli ho spiegato il motivo che mi doveva allontanare e dico guarda accomoda qui devo mancare dieci giorni una settimana accomoda questi giorni lascia la chiave poi al mio amico e questa fu l'occasione di fargli conoscere a Paltucci lascia la chiave e te ne vai le cose sono rimaste quando torno e vedo questa donna io lo mandai via ma lo mandai via signor Presidente ma guarda lo mandai via in brutte maniere perché ripeto intanto perché mi ha nascosto questo perché mi ha fatto giovare questa donna che poi era sua moglie poi ho saputo che era sua moglie poteva essere anche una donna una donna una donna qualsiasi poi vedo questo vecchio a piede scalzi in casa ma lui non ha detto mai niente al giudice struttore di questo fatto non ne ha parlato signor Presidente pensava che questa cosa non veniva fuori quando gli ha dato questa casa questo appartamento lei dove è andato ad abitare io vado in Sardegna con mia moglie se presente vado a prendere mia moglie all'aeroporto me ne vado in Sardegna a abitare in Sardegna una settimana in Sardegna perché ogni volta in quel periodo non so se mi sono affittato un appartamentino in Sardegna dove nelle famose costruzioni in quel posto di Porto Rotondo di Porto Rotondo sono stato una settimana dici, otto giorni come mia moglie lì possono tornare se le costruite la Faldetta no 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 io non ci ho mai abitato lì dove la Faldetta non c'entrano questi lavori con me insomma se ne parla tanto di questa società non esiste niente signor Presidente di questi rapporti di affari con Faldetta non esiste niente ora signor Presidente lui l'ha nascosto sempre questo l'ha nascosto al giudice sottorico e non ne parlava neanche qua se io non glielo contestavo questo e perché signor Presidente chi ha nascosto? perché il vero motivo perché lui venne a Roma signor Presidente il motivo che venne a trovare a Roma a me è stato perché aveva bisogno di questo appartamento perché doveva ricevere questa moglie e doveva fare buona figura doveva fare buona figura perché non gli è piaciuto il primo appartamentino e voleva un appartamentino più comodo e più spazioso e in quell'occasione ripeto quando io bus e non trovo e non vedo e cioè non potrei abitarci che io ero con mia moglie me ne vado in appergo per due giorni perché dico guarda gli do tempo due giorni per andare via signor Presidente io lei ha visto qua lui manco manco ha voluto si è arrabbiato solo perché io ho chiamato la signora Bionda vado a pensare vado a pensare se io lo mandavo via di casa insomma il carattere di quest'uomo qual è stato di come si è espresso quando ho detto la signora Bionda che questo stesso signora Bionda non era possibile chiamare come la doveva chiamare ma lui allora non le disse che era sua moglie signor Presidente io per i miei principi siccome la vita le ha fatto su Buscetta io non ne vorrei parlarne qua signor Presidente però sono costretto a parlarne mi mortifico io stesso parlarne perché ripeto lei può dire ma tu gli hai dato ospedale gli hai dato ospedale gli hai dato ospedale gli hai dato ospedalità signor Presidente io mi rimproverò sempre nella mia vita questo ospedale che gli ho dato a contrario del fratello signor Presidente perché l'amicizia mia è il fratello Vincenzo Buscetta lui non era amico io solo lo conoscevo per quei rapporti che c'erano io e il bar il bar è stato l'ultimo periodo ma più altro per questa conoscenza con il fratello lui lavorava con il fratello ci vedevamo all'ora di pranzo quando io facevo uno spuntino da Cafrisci via Macqueda che i giardini e dove lui lavorava sono a metà strada lui era via Sant'Agostino no via Bandiera una attraversa di Bandiera e io via Macqueda qui vicino via Bari via Napoli sono in quei pressi là dunque il posto dove andare a fare uno spuntino era l'unico locale che si conosceva era Cafrisci e il Raket e il Croc mi pare Cafrisci era più assortivo e andavamo sempre là a vederci e tutti gli impiegati dei magazzini eravamo sempre ci conoscevamo tutti che ci vedevamo tutti i giorni ecco dove conosco Buscetta ripeto parlare di Buscetta è l'immordato di Buscetta io mi vergogno sempre di parlare però io lo debbo parlare ne debbo parlare per dire Buscetta sono le sue sono le sue le dichiarazioni non sono mie una pensione di una cesta per Sikin il Presidente si vuole informare che era per Sikin per cortesia lui era amante di una prostituta ma insomma una prostituta io non voglio andare oltre perché sennò io devo dire alla corte ma che mestiere faceva in quel periodo Buscetta lasciamo stare io mi fermo qui e non vado oltre perché mi vergogno stesso a parlare di Buscetta ne parleranno i miei avvocati non ne voglio più parlare perché purtroppo c'è l'accompito dei miei avvocati di parlarmi se poi mi vuole contestare qualche cosa io sono qui a sua disposizione l'interrogatore lei l'ha reso ha fatto il confronto era soltanto per venire incontro al suo desiderio di aggiungere allora può tornare no signor Presidente questo è uno ora c'è il contorno c'è il contorno io che purtroppo il contorno io non è che lo conosco ora c'è il contorno poi c'è Faldetta e poi poco a poco contorno signor Presidente io non ho avuto mai contestato niente di contorno non ho avuto contestato niente mi scusi posso andare un passo indietro con Buscetta scusami perché poi degli omicidi noi parliamo a Buscetta io non gli ho avuto neanche dare la soddisfazione di dire perché se le pensi ricorda l'ha fatto l'ha fatto la sceneggiata qui Buscetta quando mi dice tu amico di mio fratello lo conoscevi tanto che ti sei seduto assieme ad altri per uccidere mio fratello e il compagno sono Presidente io in quel periodo e a lui non gli ho dà non gli ho dà questa soddisfazione per il mio principio non io la davo perché è una cosa mia personale quando è stato ucciso il fratello io vivevo in Toscania cioè provincia di Viterbo avevo la proprietà in Viterbo a Viterbo nel periodo di Natale il 20 dicembre di quell'anno ho fatto venire mia suocera mio cognato i bambini a passare il Natale con loro perché la mamma di mia moglie il fratello di mia moglie difficilmente passevamo le feste assieme in quell'occasione li ho fatti venire in Toscani ma non è questo importante però gli ho detto passiamo il Natale assieme però il 26 l'indomano del Natale noi io e mia moglie partiamo come tutti gli anni nel 78 79 80 81 82 83 84 ogni anno me ne andavo l'unico svago che gli potevo fare a mia moglie è passare 3, 4 giorni 15 giorni se nel caso all'estero con mia moglie io ho dei parenti il suo presidente a Berna in Svizzera parenti che sono emigrati dal 70 ma anche prima del 70 questo non me ne ho e allora ci andai la prima volta ci andai quando ho fatto visitare a mio figlio nel 74 dal professor Stocchio professore di fama internazionale a Zurich e lì portavo mi appoggiai in questi parenti miei perché loro stessi mi indeclarono ad andare e da quel periodo un momento in poi io avendo è andato è andato del 78 in poi andai in questo nel quando è successo il fatto del fratello l'indomano il 27 dicembre con mia moglie io parto faccio Roma Zurich biglietti fatti a nome di mia moglie Mattaliano Rosaria e a nome mio cioè io allora avevo un documento falso che questo documento me lo sequestrarono a Ponte Chiasso Vileanza Rosario che poi si possono controllare benissimo allora io faccio questo viaggio Roma Zurich vado il 27 e la volta mi fa la gentilezza adesso mi vado a fare istanza per accettare questo mio viaggio vado questi parenti miei mi vengono a prendere all'aeroporto in questi parenti miei c'era la zia sofferente ammalata la zia mia mamma di questi miei parenti ammalata io per non disturbare ho detto che ero venuto solo per fargli visa di Natale però ho cercato di andarmene tanto che faccio i biglietti faccio una prenotazione all'Hilton di Parigi all'Abergo di Parigi faccio il viaggio il 29 per andarmene a Parigi e vado a trascorrere la notte di San Silvestro all'hotel di Parigi e sono lì a nome mio un altro dopo cioè io viaggiavo mi scusi ho presente purtroppo dovevo viaggiare in questa maniera perché per lo mio stato viaggiavo con il passaporto avevo il passaporto Leanza Rosario e viaggiavo in aereo però questo a Belgo anziché prenderlo a questo nome l'ho preso a nome di Alfonso Argenti quindi lei viaggiava in aereo perché non aveva detto che l'aereo non lo veniva io ci ho viaggiato tanto in aereo Roma Palermo viaggiavo in aereo perché per il fatto di non essere visto e e sono alloggiato a Parigi con questo nome Rosario Alleanza Alfonso e questo qual è l'albergo Alfonso Argenti Argenti documento questo documento l'ho sequestrato pure a Chiasso qual è l'albergo è stato Hilton ah è l'Hilton di Parigi quello vicino sono due mi pare quello vicino alla torre Eiffel torre Eiffel mi pare che l'Hilton ce ne sono due lì a Parigi ora io ho cercato di fare fare accertamente al mio sì ho cercato di fare fare accertamente all'avvocato l'avvocato non so perché produrrà l'istanza ecco io ma questo che cosa proverebbe io questo vorrei questo coinvolgimento a me che mi fa buscetta che io ho derredato ma è dopo la morte del fratello il fratello mi pare che è stato il 28 e lei è partito successivamente io ero lì all'estero non esistevo a Parigi lui racconta un episodio circoscritto lui racconta insomma io non ho capito la conducenza della sua che io lui cosa ha detto tu ti sei seduto qui davanti alla corte a te ti sei seduto sì tanto è vero che tu hai l'amico di mio fratello che tu ti sei seduto ad assieme ad altri a depredare la morte di mio fratello e di mio popolo il mio genere mi scusi la seduta sempre per quello che dice Buccetto ovviamente sarebbe dovuta essere precedente al fatto no sono precedente perché cosa dice lui qua sono precedente vediamo può darsi che io ricordi male mi pare che l'ha detto in serie di confronto non come esecutore materiale l'avrebbe indicato no sapete io capisco che io non mi posso sono mandante di tutti questi omicidi qualche omicidio posso dire io ho questo da dire se la corte ne vuole tenere conto no la corte viene conto è proprio di questo è proprio di questo e non è la cosa che posso discutere non è la cosa forse chiara è questa che posso discutere sì ma in che senso io non ho capito qui l'ha proprio a pagina 78 ah fino a tutto l'omicidio non è tornata a Palermo ma lei che è partito ma no ma no guarda cosa dice qua Buscita faccio presente che Badalamente mi disse che il giorno prima dell'uccisione di mio genero Genova vi era un tentato vi è stato un tentativo di uccidere Pino Greco sta pazzetta e che tale tentativo non era andato a buon fine a questo punto mi resti subito conto che tale attentato era collegato con la ritorsione nei confronti dei miei perciò guardiamo un giorno prima dell'uccisione del fratello del genere cioè quando io non ci sono a Palermo ma no questa è la ritorsione del genere Genova mi pare fratello e non è questo periodo signor Presidente è questo periodo il giorno di Natale la notte di Natale quella fu la cosa che stiamo chiamando parliamo parliamo di tutto questo omicidio del fratello il fratello spiega il meglio perché era la sua tesi nel genere non lo so parliamo del fratello se si è capito bene lei intende dire che siccome l'omicidio del fratello è frutto secondo Buscetta di una ritorsione la deliberazione sull'omicidio non può essere che è intervenuta dopo che è successo il fatto causativo della ritorsione quello che dice lui io sto contestando per dire per dire che io questo lo posso dire però poi altre cose parliamo di contorno e poi parliamo degli omicidi qualche omicidio io contorno signor Presidente io non l'ho mai conosciuto non lo conosco non l'ho mai conosciuto anche se il contorno ha fatto più di una dichiarazione ha fatto tre dichiarazioni al giudice struttore qui di Palermo al giudice posimato a Roma e qui è venuto a dire altre cose che cosa ha detto ha ripetuto quello che ha detto Buscetta che io faccio parte di questa commissione addirittura prima del 71 prima del insomma fa discorsi suoi contrariamente a quello che dice Buscetta lui fa altre dichiarazioni ma non è questo l'importante lui parla che io a Roma perché lui si rilogge più sull'attività mia di Roma lui dice che a Roma sono amico di un certo a Bruciate che io vivo a Roma conosco Barbarossa conosco Zaza conosco allora lui si sofferma solo ad a Bruciate a Bruciate signor Presidente lì a Roma c'è stato tanto di quegli indagini di accertamenti a parte che si è bruciato io non ho mai avuto rapporto non è risultato nessun rapporto ma pare che si è bruciato tutto questo periodo del 70 fino all'82 era stato sempre in carcere quasi sempre in carcere ma non è questo che voglio dire signor Presidente questa dichiarazione che fa a contorno gli dice parla solo di a Bruciate qui a Palermo a Roma a distanza di due mesi dopo le rivelazioni di Buscetta e dopo il processo di Roma che viene fuori di Otalevi di altri nomi allora ad Ipposimato gli dice che io sono amico di Otalevi che sono amico di altra gente parla di rapporti cioè che io sono un trafficante anche di droga che io sono un trafficante di droga detto da un certo detto da un certo di Carlo Franco di Carlo Franco io di tutti gli altri nominativi che lui ha fatto che dice che io me la facevo in autosalone che io amico di questo che io amico di quello io lì a Roma ho fatto chiamare a tutti cioè ho cercato di fare interrogare a tutti questi sia il proprietario del salotto salone sia altri testimoni sia non è risultato niente di tutto quello che ha detto un solo test che mi rimane che non è stato possibile farlo venire perché si trovava a Londra e questo di Carlo Franco di Carlo per me è importantissimo il suo presidente perché da di Carlo Franco lui sa che io sono stato ospite a Londra io sono stato ospite da un marchese un principe lo so a Roma che io facevo attività di traffico di droga allora io prego insomma di fare istanza e prego alla corte di interrogare questo di Carlo perché è importantissimo ai fini e imputato e sapere questa verità e l'abbiamo eseggiato da parte degli istruttori oppure l'abbiamo eseggiato a Londra sì però è importante per la mia difesa se no come che numero è numero 7 presidente la difesa di Carlo fa formale istanza affinché questa corte voglia richiamare gli atti relativi al procedimento per misura di prevenzione intentato presso il tribunale di Palermo contro Di Carlo Francesco portante il numero 45 barra 82 nonché il fascicolo sempre relativo alle stesse misure di prevenzione pendente presso la corte di appello di Palermo portante il numero 55 stavolta barra 82 e da questi incartamenti dovrà risultare in maniera molto chiara molto evidente inconfutabile che Di Carlo Francesco non ebbe mai ad allontanarsi dall'Inghilterra fin dal febbraio 1978 la difesa di Carlo in questo procedimento ha prodotto ampia documentazione dimostrante che appunto che Di Carlo dal 78 in poi non si allontanò mai dall'Inghilterra in Inghilterra ottenne la patente di guida permesso di soggiorno posto di lavoro con un rapporto continuativo e così via tutto ciò noi riteniamo essere molto utile ai fini di potere ai fini di accertamento per eventuali riscontri a quelle che sono le dichiarazioni di contorno nella parte riguardante questi colloqui avuti dallo stesso contorno con Di Carlo Francesco in Roma in una certa data che evidentemente non coincide con quello che sono poi acquisiamo i pareri successivamente lo facciamo finire anche adesso non fosse altro che proprio per le ragioni che ha detto l'avvocato cioè è stata la stessa difesa del Di Carlo che ha introdotto agli atti di questo processo ampia prova secondo almeno quello che mi viene riferito in questo momento all'avvocato Moccero della circostanza che attraverso quella produzione si vorrebbe provare quindi per la produzione a questo punto si è appare assolutamente superflua e quindi mi oppongo a questa richiesta di acquisizione di atti ci sono anche la parte civile si assoggia alla richiesta del Polonese va bene d'accordo di essere insieme senta Carlo cerchi di essere un poco più sintetico molto importante per i fini come per esempio mi scusi signor Presidente senta no dico ai fini lei ha reso un lungo interrogatorio poi un compronto adesso cerchi di essere sintetico io non le dico di dimenticare delle cose o di trascurare ma di essere più succinto nella maniera di esplorare ora adesso parliamo per esempio Carlo parla io trafficavo in droga a Roma allora è importante per me oppure no io so che a Roma non hanno tenuto conto di queste dichiarazioni per quanto riguarda perché non ho avuto contestato nessun traffico di droga a Roma però è importante per questa corte dato che Buscetta cosa dice Buscetta dice contorno 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 no no ah siamo ritornati perché poi Buscetta il contorno dice andiamo a cercare e Buscetta dice poi allora sono due che dicono la stessa cosa in realtà era ben noto che il nostro ambiente no no basta dire che quando sono tornato dal Brasile Calò gestiva una macelleria nei pressi di Corso Pesano cui accodiva personalmente mentre nel 1980 egli stesso mi diceva di vivere appena discretamente per avere guadagnato un po' di soldi nel contrapando di tabacchi in realtà era ben noto che nell'ambiente e lo avevo appreso in particolare da Gaetano Badalamente da Antonino Salamone e da Bontate Stefano che 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 avevo guadagnato un mucchio di quadrini con il traffico di stufacente allora signor Presidente Gaetano cioè Stefano Badalamente purtroppo è morto e non glielo possiamo chiedere il signor Badalamente è in America e non so se loro glielo chiederanno ma c'è qui Antonio Salamone se per cortesia glielo voglio chiedere se gli risulta che io di dove lo sa che io trafficavo in droga perché Buccetta cosa dice che glielo dicono dalla Salamone Stefano Bontà e Badalamente perché glielo voglio chiedere a Salamone per cortesia quindi lei chiede che venga perché purtroppo dice che io che poi è anche vero che io gli ho fatto questa confidenza perché non esiste che ho guadagnato un po' di soldi nei tappacchi questa cosa non le ho mai detto andiamo al contorno stiamo parlando di contorno contorno ecco le volevo chiedere questo siccome ha fatto tante dichiarazioni allora la cosa quella che è importante è questo che che venga ascoltato appunto se è possibile se io chiedo per cortesia prendere questo detallo perché è il punto cardine di questa accusa che mi fa contorno poi che cosa è venuto a dire qua signor Presidente che io ogni mese venivo e andavo in casa di bontà dice sì è vero che abitavo a Milano a Roma però venivo ogni mese qui ho sentito io con le mie orecchie che venivo ogni mese e a casa di bontà lo vedevo io a casa di bontà ora io le volevo chiedere alla corte anche se lo vado faranno all'istanza per vedere un po' bontà da sentanto in poi se era carcerato se era confinato da quando poi è stato carcerato contorno quando è stato confinato contorno vediamo il periodo che mi rimaneva libero quando io potevo andare in casa di bontà a fare visita questo non so se sono stato chiaro signor Presidente vedere un po' quando è stato quando potevo andarci in casa di questo bontà dato che lui dice che io andavo lì a fare quasi ogni mese a casa di bontà vediamo un po' quando è stato possibile quanto poi riguarda signor Presidente parliamo di faldetta e poi faldetta purtroppo lei ha visto faldetta signor Presidente l'ha conosciuto qui faldetta io lo conosco mi ha sempre come io ho sempre rispettato lui mi l'ha sempre rispettato non credo che mi volesse far male per la dedicazione che lui ha fatto al giusto istruttore signor Presidente io le dico una cosa se faldetta stava altri 20 giorni isolato al Re Bibbia sono sicuro che avrebbe pure accusato o accusato magari avrebbe pure fatto avrebbe nominato pure sua madre ma purtroppo l'individuo è questo io cosa posso dire di faldetta lui ha detto che io ero qui a Palermo sono stato qui a Palermo sono stato nel suo ufficio e questo lo vedremo se la Corte ne è opportuno interrogare la testa cioè la sua segretaria però una cosa è certa quando lui parla di un periodo natale 83 che ci siamo fatti gli auguri a Palermo io posso dimostrare con documenti alla mano che io non mi trovavo a Palermo in questo periodo io abitavo in quel periodo l'83 periodo di Natale a Roma in un residenzio a Roma in un residenzio dei Pini dove ciò perché lì a Roma hanno fatto insomma come dire la questura ha indagato la mia vita l'ha indagata tutti i giorni quello che facevo con chi abitavo con chi stavo insomma e non è risultato altro che vivevo sempre con mia moglie anche in queste residenze c'è la testimonianza di un portiere che in quei periodi da un periodo dopo i primi dell'84 io ero in quel residenzo nel verso il periodo 20 dicembre da quelle residenze da quelle residenze io partì e andai sempre in questi miei parenti a Berna questo periodo partì da verso il 20 così in macchina questa volta lascio la macchina a ciasso loro i miei parenti vengono a prendermi perché non potevo entrare non potevo passare la frontiera perché la macchina non era intestata né a me né a mia moglie perciò l'ho dovuto lasciare lì vennero questi miei parenti a prendermi e passare tutto il periodo le feste natalizie con questi miei parenti a Berna per ricambiare io questa mia questa affettuosità questa ospitalità li ho invitati a trascorrere la notte di San Silvestri a Zurigo all'hotel Zurigo a trascorrere la notte proprio ho prodotto tre camere a nome mio a nome di Frisalle l'ultimo documento mio Frisalle Raitano a nome mio per quella sera di San Silvestro e per noto tre camere a nome mio e trascorro il capodanno trascorro la notte di San Silvestro e me ne ritorno in casa dei miei parenti e se io ho fatto pure richiesta di accertamento per vedere un po' se risultava non so se l'avvocato mio cosa gli ha risposto il direttore dell'abbergo non lo so non lo so l'avvocato lo vuol dire non lo so l'avvocato? non c'era l'avvocato è lì lateralmente a noi forse è la corte che si deve interessare perché il direttore ha detto che già vabbè quando non li stanno il suo avvocato sì e mi pare anche è per evitare poi una frammentata che certamente non giova poi vabbè questo doveva dire c'è altro? sì poi degli omicidi sono presenti per quello che posso giustificare perché a un certo punto essendo mandante purtroppo vado a trovare questa con questa difesa quale potesse essere la mia difesa non lo so io ci comincio io ci comincio la prova del mandato quindi c'è il pro e il contro nelle cose scusi è il caso presentare io ho la testimonianza di questo portiere delle residenze posso introdurla questa portiere delle residenze ma non hanno detto che l'avvocato farà la istanza cioè allora le presenterà l'avvocato queste sì no farà un'istanza per quanto pare c'è una risposta che presuppone un accertamento che deve fare la corte un accertamento internazionale non so l'avvocato Firenze ha pure si teresa ha finito lei no no mi dispiace se faccio perdere tempo allora continuo io ho dal dicevo e ho pure testimonianza da da quell dalla da chi mi ha dall'ufficio immobiliare che mi ha affettato gli appartamenti ne ha fregene dal 73 al 77 e poi dal 77 io come ho detto l'altra volta ho villeggiato sempre in Sardegna dal 77 forse non interessa il 77 perché se hanno detto mi pare che omicidi non ne ho imputati però no perché c'era il capitano russo per fortuna non ce l'ho imputato il 77 il 78 ero pure lì a villeggiare quando ho sentito per viarrato l'uccisione del capitano perciò io ero lì nel 79 mi pare che nel 78 ero lì sempre a villeggiare ma quello che interessa mi pare il 79 Boris Giuliano mi pare l'omicidi di Boris Giuliano io nel 79 fine giugno 79 inizio o primo del luglio del 79 mi sono imbarcato con una BMW dalla Cività Vecchia con mi pare il nome Ayaloro ma la BMW era intestata la società Agrodille che era una società che interessava Balducci perché è Balducci che me la presta questa macchina ed era intestata Agrodille perciò era una macchina insomma che si può subito vedere il nome mi ricordo benissimo che io Ayaloro ho fatto il nome il biglietto al nome Ayaloro nella Mediterranea mi pare che facevo viaggio da Cività Vecchia Olbia così il ritorno di Olbia Cività Vecchia sempre a questo nominativo con la stessa macchina e io ho villeggiato in questo in questa villetta dove poi diventò padrone Faldetta di questa villetta prima Rasparino Bellino e poi Faldetta e io lì ci ho abitato tutti i due mesi in pieno luglio e agosto facendo venire pure nel periodo mi ricordo se è stato luglio o agosto mio cognato mia cognata e mia nipote ci sono i biglietti d'aeri che possono testimonare pure a parte questo io ho delle testimonianze per esempio nel 78 io avevo comprato lì a Olbia una barchetta a motore nel 79 a luglio del 79 per un maltempo l'avevo era attaccata la boa vicino accanto alla villetta c'era la villetta si ruppe la catena c'era un temporale andò a finire sui scogli per miracolo non c'era io e mia moglie perché cinque minuti la disgrazia mi succedeva a me con mia moglie ha fatto in tempo ad attaccare questa barca a buttarci in acqua ci siamo salvati per miracolo questa barca si ruppe la catena andò a finire sugli scogli e io c'ho il testimone chi me l'ha venduto chi venne a tirarla fuori questa barca insomma in 79 insomma il periodo dell'omicidio cioè io non mi sono mosso non mi sono mosso dalla Sardegna in questo periodo di luglio agosto del 79 questo è stato il periodo che hanno ucciso Boris e Giuliano per quello che posso dire io questi testi io cercherò di citarli però se la signora vostra la corte deciderà di farle venire per mia discorpa questo quanto riguarda l'omicidio Boris e Giuliano poi c'è stato un altro omicidio che io ero arrestato fermo quando mi trovarono in tasca un milione e duecentocinquanta mila lire a Chiasso e poi questi documenti a nome di Leanza e di Affonso Argenti ero carcerato per quei tre giorni che poi mi hanno dato la libertà professore e in quel giorno che io carcerato è successo pure questo omicidio il giorno non lo so l'avvocato lo sa il giorno di quale omicidio si tratta forse sorci un certo sorci poi l'omicidio della Chiesa signor Presidente l'omicidio della Chiesa io abitavo ero ospite in Toscania in Toscana in Toscana scivolo di due gradini e mi fratturo il polso fratturo il polso mi portano all'ospedale me lo sistemano me lo ingessano da lì me ne vado in Toscania dove io avevo la proprietà poi il 15 luglio io telefono a Faltetta e gli dico se era ancora libera disponibile la villetta della Sardegna per trascorrere un mese lì in Sardegna mi ha detto ci puoi andare anzi lì vai a trovare mio cognato sua moglie i bambini che gli devo fare fare riparazione perché a parte del cognato era un dipendente di Faltetta un certo viglia viglia vincenzo vado in Sardegna a metà luglio anzi mi dice che trovo suo cognato approfitto io perché macchina non ne potevo portare perché avevo il braccio ingessato me ne andai a Olbia ho preso il tassi me ne andai nella velletta trovo il cognato e questo cognato per un mese e mezzo mi dava compagnia sia andare a fare la spesa sia quando andai a fare i raggi perché già erano trascorsi 60 giorni per levarmi l'ingessatura mi accompagna all'ospedale di Olbia per togliere l'ingessatura a fine agosto mi fa i biglietti lui c'è una cameriera che me l'ha mandata l'agenzia una una di Zacheno una cameriera quindi lei intende dimostrare che io un mese e mezzo ero lì tutto il mese di agosto ero lì vado via alla fine fine estate fine agosto della Sardegna me ne vado in Tuscania dove io ho la proprietà e trascorro perciò io cercherò di scendere nei dettagli io dico per dire dove mi trovavo se questo può essere utile poi voglio parlare io vorrei parlare tanto dell'ordinanza del riaggiudizio però non voglio stancare la corte io ho parlato un po' e ho detto che non c'è una verità sinceramente non c'è una verità il giudice istruttore che mi dice che mi fa mi coinvolge in rapporti a Roma con il processo di Roma con Carbone con con pazienza che è stato a villeggiare lì ma a me non mi interessa perché se pazienza è stato a villeggiare lì se gli ha dato ospedalità a Balducci ma a me non mi interessa invece qua dice il giudice istruttore Faldetta ha dato ospedalità a pazienza a Calop insomma non mi interessano perché non mi interessano questi argomenti se quanto riguarda i rapporti a Roma beh a Roma io ho passato un processo di associazione e lì passano tutte queste testimonianze questi personaggi che loro che il giudice istruttore vuole collegarmi e non è successo niente cioè questi rapporti non esistono e la mia attività purtroppo signor Presidente vivo sempre a Roma con mia moglie e io cioè non è mai uscito fuori che io a Roma vivo oppure mi hanno visto o c'è stato un testimone che ha detto Calò era assieme con Tizio Caio sempre mia moglie e io perché lì a Roma io facevo quasi il pensionato signor Presidente vivevo la mia vita a Palermo avevo la macelleria lì avevo questa società con questo legge ma da quello che lei ha detto emerge che lei teneva un condotto di vita una condotta un tenore di vita abbastanza elevato è elevato signor Presidente signor Presidente si era comprato la barca se ne andava in Svizzera se ne andava a Parigi signor Presidente ma mi dico un po' signor Presidente io e mia moglie non ho figli signor Presidente per te sgrazie devo dire non ho figli lei che attività svolgeva dopo la morte del Balducci ecco l'ho detto io l'ho ripetuto ma dico dopo la morte del Balducci particolarmente io sono in società fino tuttora a parte la macelleria che vive che me l'hanno tolta la licenza a nome di mia moglie l'anno scorso a metà dopo il mio mandato di trattura mi tolgono la licenza a mia moglie tolgono pure la licenza a mia moglie perciò fino a un anno fa io avevo la licenza di macelleria che lavorava attivamente senza mai cessare poi nel 73 io vivevo a Roma e ripeto con la sanzalaria di Balducci signor Presidente ho dato pure una cifra a Balducci perché poi lei lo vedrà se lui purtroppo dava soldi a interesse Balducci non è che i soldi suoi io lo so come guadagnava Balducci prendeva a 6-7% li dava all'8% sono fatte suoi però a me mi ha inserito a guadagnare un po' di soldi ma non è che io sapevo difatti io farò venire perché c'è una testimonianza di quello che ha venduto la proprietà a me a Roma come me l'ha venduto questa proprietà cioè io non esisto in questa trattazione Balducci con lui che neanche gli ha dato soldi gli ha dato appartamento questa è una cosa io farò venire questo test che poi pare che a Roma l'ha detto pure in tribunale come è stata questa trattazione di questa proprietà come ha venduto questa proprietà a me e lo farò se voglio io lo chiamerò come test se lei poi il suo presidente lo vuole sentire dunque poi il suo presidente ripeto io ancora sono in società con questa persona commerciante di mobile di mobile antiche che abbiamo fatto società purtroppo la licenza non potevo fare io non potevo venire fuori io ho sempre lavorato così cioè abbiamo una carta privata il suo presidente dove c'è una società scritta che tuttora mi garantisce se il presidente a lei andava nei locali di questo che è l'antiquario quello che poi è morto io in questo locale ci andavo se il presidente ci andava ci andavo ma non io dovevo pure io pure dovevo garantire non ha fatto il nome scusa dovevo garantire pure a questo personale perché non potevo starmeno oppure stare lì farmi vedere da tutti perché la mia faccia purtroppo poteva essere conosciuta di qualcuno che passava qualche cliente allora cercavo sempre di vivere sempre nell'ombra non l'ombra come dice il pubblico il luce sottore perché l'ombra come dice il luce sottore non è così perché io quando ho comprato la proprietà in Tuscania ho fatto intestare la proprietà mia moglie e c'è una denuncia alla pubblica sicurezza che mia moglie ha comprato una proprietà dunque quest'ombra quando io mi sono liberato del processo di vitale quest'ombra io non l'ho mantenuta signor Presidente tanto è vero c'è qui se vuole la denuncia che ha fatto una coppia di denuncia che ha fatto questo Oberdan alla questura di Viterbo dove io ho comprato la proprietà aspetta che la faccio vedere anche la data è importante perché da quella data io sono a Roma sono con questa proprietà è stata esibita questa coppia la dovete esibire? si la voglio si va bene se la devo esibire poi l'avvocato non c'è bisogno è meglio fare una istanza organica un'Italia in modo che tutto